Finisce sui tavoli dell'Assemblea Legislativa delle Marche la mozione presentata dai consiglieri regionali del Partito Democratico Gianluca Busilacchi e Fabio Orbinati per dare piena operatività alla stazione unica appaltante regionale, un'occasione anche per focalizzare lo stato di attuazione della stazione e importanti sviluppi in tema di appalti pubblici. Ma fortunatamente siamo proprio in questi giorni ad un punto di grande svolta e martedì porteremo in aula una mozione che darà via alla piena operatività della stazione unica appaltante che è già stata istituita alcuni anni fa da una legge regionale di cui ero primo firmatario e che in questi anni nonostante le molte sollecitazioni del Consiglio regionale ha funzionato diciamo non a pieno regime. Finora sono partite alcune gare ma solamente tre e adesso dal primo gennaio grazie allo sforzo del gruppo del PD in regione e della giunta che devo dire da questo punto di vista e il presidente stesso Ceriscioli si è dimostrato molto disponibile e attento a questo tema, dal primo gennaio partiranno moltissimi appalti per un valore di oltre 300 milioni di euro. Pensare che solamente sui farmaci che sono circa 180 milioni di euro di appalto verranno gestiti dalla stazione appaltante questo consentirà intanto un grande risparmio perché la stazione appaltante porta un risparmio di circa il 10% dal 10 al 20% del valore degli appalti. Quindi in questo modo i contribuenti marchigiani potranno risparmiare alcune decine di milioni di euro e poi certamente appalti anche più efficienti e più trasparenti. Quindi è con grande favore che salutiamo appunto in questi giorni la piena operatività della sua ma che sarà una vera svolta negli appalti della regione Marche.